L'analisi che abbiamo condotto sui sistemi regionali di cura per la salute mentale ha evidenziato come sempre accade luci ed ombre, tra le luci quelle di alcune regioni che hanno più decisamente investito sulle opzioni assistenziali territoriali e meno sulla versante ospedaliero. Questo da un lato ha rafforzato il core business dell'assistenza per la salute mentale nella comunità, dall'altro ha ridotto anche significativamente le spese perché non dimentichiamo che un ricovero ospedaliero è un'opzione assistenziale ad elevato costo e non sempre opportuna o appropriata. Già nella 180 e poi nella 833 si demandava alle regioni l'organizzazione di un sistema di cura per la salute mentale che avesse come riferimento il dato territoriale. Ecco, questo è probabilmente il motivo storico per cui in psichiatria, prima ancora che in tutte le altre branche della medicina si è rilevata questa disparità nei territori regionali e talvolta anche nelle varie province all'interno della stessa regione perché i sistemi sono stati strutturati e poi confermati di volta in volta sulla base di un dato storico a seconda della sensibilità, dell'attenzione, dell'interesse di singoli amministratori piuttosto che di piani programmatici, ben strutturati ed equilibrati, cioè che prevedevano le stesse misure su tutto il territorio nazionale. Basti pensare che oggi dei piani per la salute mentale regionali sono stati aggiornati da un numero ristrettissimo di regioni e che anche il piano nazionale d'azione per la salute mentale non fa altro che fissare degli obiettivi da perseguire senza tuttavia specificare quali risorse, in che misura, con che caratteristiche anche qualitative devono essere allocate dalle regioni perché questi obiettivi siano realmente perseguiti. Questo è il motivo per cui la disparità che troviamo sul territorio nazionale oggi configura un quadro di disuguaglianze davvero intollerabile. Quella che gli anglosassoni chiamano la lotteria del codice postale in salute mentale in Italia è una realtà. A seconda del luogo dove vivi, quindi a seconda del codice postale, puoi essere così fortunato da avere una rete articolata di servizi cui fa riferimento, ho piuttosto sfortunato e quindi non sapere letteralmente a chi rivolgerti. E questo problema non è arginabile neanche con il metodo tradizionalmente più diffuso nella medicina generale ospedaliera, ossia la mobilità sanitaria. Perché se è vero che per un intervento, per un accertamento diagnostico, io posso muovermi da una regione e andare verso l'altra perché mi offre maggiori garanzie di qualità, di tempestività. Questo non è affatto applicabile in salute mentale. Una persona con un disturbo psichiatrico grave ha necessità di un intervento continuativo che faccia riferimento alle risorse che quella comunità può mettere in gioco, dall'inclusione sociale, dall'associazionismo, dall'intervento per acquisire o riacquisire una competenza lavorativa da spendere sul mercato del lavoro. Ecco, le persone, le famiglie che hanno congiunti con un disturbo psichiatrico grave non hanno l'opportunità di spostarsi in un'altra regione, a meno che, e sono sempre più numerosi i casi, non decidano di spostare tutti assieme la residenza. Questo ci fa evidenziare due grossi problemi. Il primo è che naturalmente lo possono affrontare questo spostamento solo le famiglie che hanno una possibilità economica in questa direzione, quindi un ulteriore aggravio di quelle disparità che dicevamo prima. Il secondo è che i territori verso i quali le famiglie si dirigono finiscono con avere un aggravio di casi gravi, di casi complessi da seguire e quindi alla lunga mostrano una difficoltà nell'assicurare una possibilità di accesso a tutte le persone di competenza territoriale. Io credo che la pubblicazione che lo stesso Ministero ha fatto di questa ingente mole di dati con il rapporto salute mentale e quello che abbiamo provato a sintetizzare in alcuni indicatori con la Società di Epidemiologia Psichiatrica siano documenti di denuncia fortissimi. Io spesso discutendone con i colleghi chiedo che cosa succederebbe se nel tuo ambito, ad esempio l'oncologia piuttosto che la cardiologia, vi fosse una disparità di accesso ai servizi, una disparità di trattamento, di qualità, di capacità di aderire alle linee guida come quella che è documentata in salute mentale. Io credo che in queste situazioni si tratti di oncologia piuttosto che di cardiologia o di altro, le aziende sanitarie, i sistemi sanitari regionali sarebbero commissariati immediatamente dal Ministero. Mi chiedo perché tutto questo ancora non avvenga o perlomeno perché questo tema non arrivi all'attenzione alle priorità del Ministero della Salute consapevole che queste stesse criticità erano state individuate alcuni anni fa da una commissione di inchiesta parlamentare. Erano le medesime criticità. L'unico elemento di novità è che oggi le stesse criticità sono documentate da numeri assolutamente espliciti. Quindi credo che a questo punto la decisione di intervenire o meno spetti a chi ha responsabilità e il ruolo delle politiche sanitarie.